Il teatro Trianon riapre con una rassegna di 16 spettacoli. Si intitola Trianon Music Live e comincerà il 23 febbraio con il concerto di Marco Zurzolo, non solo Viviani, per concludersi il 24 aprile con Daniele Sepe ed il suo canzoniere illustrato. Gli altri appuntamenti vedono impegnati artisti come James Enese, Eddie Napoli, Capone Bungt Bangt, gli Spacca Neapolis, i Virtuosi di San Martino, Pietra Montegorvino con uno spettacolo curato musicalmente da Eugenio Bennato e Peppe Barra che dopo la cantata dei pastori natalizia torna con lo spettacolo fiabesco Peppe Barra racconta. Avranno un loro spazio inoltre anche gruppi emergenti come i Foglia e gli Epo e gli omaggi ai grandi della canzone napoletana.